zio ti sto riprendendo bomber perché qua tutti in città la chiamano bomber eh perché lo sono cosa vuol dire essere bomber è un ruolo molto importante che molto importante impegnativo date le circostanze che si propagano in giro per questa città cosa intende con circostanze? eh magari dei malati o roba del genere di donna a mano per questo la chiamano bomber? no anche per altre cose ad esempio? mmm